Salve a tutti voi da iPhone Assist, siamo al momento del dunque, o come si dice? Stiamo dando il telefono al legittimo proprietario, gli abbiamo fatto la proposta di venderci, ho detto no, perché no? Ma mica ho detto che me lo dai gratis, perché rimane impalzato qua? La scocca tua rimane impalzata, me la faccio vedere. Ha preso una botta qui, proprio qua? Ah infatti, guarda, c'è un po' di abbozzamento qui. Comunque, non c'è più la schermata blu, tu hai detto che ce l'hai portato perché era caduto. Aspetta, no, prima l'hai portato da altri, giusto? Alza la voce che sennò non ti sentono. Aspetta, è lui il cliente, guardatelo, lo scopriamo, è lui che ci ha fatto dannare, come ti chiami? Marius. Marius, ci hai fatto dannare cinque piazzole, ma chi è stato che ha messo quella vite là, sbagliata? Qualcuno. Qualcuno, tu? Un po' d'arte. Io no, perché a me me l'hai portato già così, giusto? Sì, giuro. E allora, questo è il telefono, ora funziona, vediamo se prendo la rete. No service, perché? Non prende il servizio, dice. Noi controlliamo, quella è una stupitaggine. Tanto la schermata blu non c'è, anche perché lo devo riaprire? Perché qui, io non l'avevo vista stavolta, ma c'è una bella... non me lo compro più allora questo telefono. Dice, tanto, non te lo vendo. Giusto? Hai detto così? No, giù. Ma ci sei proprio, ci tieni tanto sto telefono? Funziona tutto, vediamo se funzionava l'impronta, perché mi sembra che l'impronta digitale, anche se il touch ID, tu mi dicevi che era originale, non la prendeva? Ah, no, infatti d'errore. Non so che dirti allora. Fernà, guarda se è una bella donna e me la passi a me, se no parlo a ciruglia. Scherzo, eh? Il telefono mi stanno chiamando. Dunque, hai detto Giorgius? Giorgio. Giorgio, scusami. Marius. Marius, come Mario in Italia? Sì, sì. Ok. Tutto latino. È un bel 32 giga. Dai, vedi, ce lo su. Anche se dobbiamo cambiare la scocca perché l'hai rovinata. Dunque, il gestore c'è, quindi forse so io che non ho attaccato l'antenna, perché anche ogni tanto su asino. Può dare. Mi ricordando, mi sembra che non l'ho attaccata. Mi prendo a schiaffita solo? Ok. Dunque, comunque sei soddisfatto. Quanto ci abbiamo messo per riparare il suo telefono, che non me lo ricordo. È un po' da tempo che è rimasto qui, eh? Un po'. Il fatto che dove arriva il filo, e l'abbiamo ordinata, arrivava dalla... Che era proprio dal paese tuo, vezza po'. Tu di dove sei? Romani. Arrivava proprio dalla Romania, guarda un po'. Me l'ha venduto Romani questo filo speciale per qua. Per cui, dopo che è arrivato, abbiamo fatto la riparazione del tuo telefono e anche altri. Adesso lo riapriamo e vedete quanto so asino che non ha attaccato l'antenna. Mi dai dell'asino pure tu? No, ma... Ancora? Sai, mi distraggo ogni tanto. Però vabbè, l'antenna, quella è stuidaggine, no? Che è acceso? No, è spento. E poi magari li mettiamo dentro qua, perché è brutto che rimane un po' fuori, no? Sarebbe da raddrizzare la scocca, però vabbè, la facciamo entrare per forza dentro. Dunque, tu sei stato a lavorare fuori, perché ti avevo chiamato, che era pronto e eri sparito. Sì. Che sei stato giù in Calabria, se non mi sbaglio, vero? Sì. Va bene, sei soddisfatto di iPhone Assist, da 1 a 0 quanto ci dai? 10. Ah, da 1 a 0, 10. Grazie, sei molto oggettivo. Grazie a tutti e saluto a tutti da? iPhone Assist. E da? Ma? Ma? Ma Riusci. Buonasera. Buonasera.